Il centro che mi ha permesso di crescere professionalmente e personalmente in quanto ha un po' abbattuto le mie paure perché ho avuto diversi confronti con i genitori, ho cercato di spiegare, grazie all'aiuto anche di colleghi e coordinatori, certe tematiche importanti ai genitori, qual è la differenza di genere, e l'importanza del giardino anche nei periodi invernali.